Ciao ragazzi, sono Umberto Miletto, alcuni di voi già mi conoscono, altri no, comunque sono un personal trainer professionista e in questi anni ho incominciato a diffondere in Italia la cultura e la disciplina del calisthenics. Sono penso stato tra i primi a parlare di questo sport e sono stato tra i primi come tecnici a incominciare a scrivere programmi di allenamento per migliorare nella pratica del calisthenics e street workout. Una domanda che mi è stata fatta tantissimo in questi anni è se è possibile, grazie al corpo libero, grazie al calisthenics, creare massa muscolare. Sì, è possibile crescere muscolarmente anche a corpo libero. Proprio per questo vi ho creato una guida, un ebook con 10 programmi di allenamento, una periodizzazione completa che vi porterà a fine ciclo a guadagnare di muscoli, per guadagnare la vostra percentuale di massa magra, cercando sempre di mantenere bassa la percentuale di grasso. Proprio per far questo, proprio per cercare di favorire questo vostro obiettivo, vi ho creato anche dei semplici consigli alimentari che potrete da subito iniziare a seguire, che abbinati ai programmi che andrete a trovare nella guida vi permetteranno di raggiungere prima l'obiettivo ricercato. Obiettivo ricercato, più muscoli, bassa percentuale di grasso. Questo è l'obiettivo di tante persone che hanno incominciato a fare calisthenics e vogliono fare questa disciplina per allenarsi semplicemente a corpo libero. Quindi troverete 10 programmi di allenamento, i consigli alimentari, sia per la fase di massa, sia per la fase poi di definizione, magari nei periodi in cui volete migliorare la vostra qualità muscolare. Ovviamente poi all'interno della guida troverete anche tutte le illustrazioni degli esercizi citati nei programmi di allenamento. È un lavoro un po' unico in Italia fino ad ora perché sono pochi i tecnici che scrivono programmi di allenamento, c'è molta improvvisazione nel settore e io penso che questa guida possa fare caso vostro se magari non avete la possibilità di andarvi a far seguire direttamente da un personal trainer, da un professionista del settore, perché lo so, farsi seguire personalmente da un professionista può essere molto molto caro. Qua andando a spendere pochi euro per ogni programma di allenamento avrete una programmazione che vi permetterà di allenarvi in modo regolare e costante tutto l'anno. Ricordate sempre che i risultati si ottengono a ciclo di un percorso, non potete vederli dopo un mese. I programmi vanno rispettati, con regolarità ed è la costanza che vi premierà, vi porterà a costruire massa muscolare nel corso dei mesi di allenamento. Quindi se volete una pratica guida da mettere subito in pratica, che vi faccia vedere come allenarvi praticamente con il calisthenics, eccola qua, massa corpo libero. E il mio ultimo ebook, vi invito ad acquistarlo se questo è il nostro obiettivo, cioè cercare di crescere muscolarmente. Grazie a questa guida però quello che succederà in questi mesi non sarà solo vedervi meglio allo specchio, più muscolosi, ma andrete anche a padroneggiare meglio le skills base di questo sport e alla fine vedrete che andare a praticare front lever, back lever, planche potrà risultare molto semplice. Sarete più forti, sarete più muscolosi e avrete migliorato le vostre skills del calisthenics. Quindi adesso sapete dove trovarlo sul sito calisthenics.it, potete facilmente acquistarlo.